Musica Comunque radicati in voi tutti i valori belli dello sport, i valori che vediamo anche nelle squadre giovanili Io devo dire, le giovanili della prima volley si scontano spesso con la squadra di mia figlia che gioca in un'altra squadra Grazie Grazie Caterina Libero, Sara Claudia Giulia 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 Il maggior numero di Muri Punto Col numero 7 Francesca Lasara Cinesca La sua esperienza a servizio Manuela Il capitano Elisa La sua esperienza a servizio Fisioterapista Marco Wizi Zanelli L'uomo statistica Per lui i PC non hanno segreti Davide Tomasini Anche lui da Castiglione Dada Miss Leo Papi Leo ti tocca Cogorno A quale accendo naturalmente Devo riconoscere che ci sono dei valori positivi I valori dello scorso I valori universali Di amicizia, di solidarietà Di spirito di salute I valori di Mazzotti